Ciao a tutti, sono Armando, vivo all'Odi e da due mesi ho deciso di frequentare un corso di inglese per migliorare la conoscenza della mia lingua inglese. Ho approfittato di un periodo di pausa della mia attività lavorativa e cercavo un corso che mi potesse aiutare ad imparare velocemente l'inglese e a migliorarlo. Ne ho necessità per la mia attività lavorativa, ho molti contanti con persone di varie nazionalità e andando un po' su internet, sentendo un po' i miei amici, sono arrivato a Wall Street. Cercavo un corso diverso rispetto a quello che è la scuola tradizionale italiana e ho trovato su Wall Street un buon corso, soprattutto per quelli che come a me non hanno molto tempo a disposizione e sono lontani da un po' di anni nei banchi scolatici. Infatti la mia paura più importante era quella di non riuscire a ritornare a studiare. Con Wall Street ci sto riuscendo, in due mesi sono riuscito ad approfondire le mie conoscenze e lo consiglio a tutti quelli che come me non studiano da parecchio tempo e devono ritornare per necessità lavorativa a studiare una nuova lingua. Un saluto a tutti e spero che questa mia testimonianza vi sia utile per fare le vostre migliori scelte. Ciao!